8 milioni che costituiscono un'operazione di mercato, che derivano da un'operazione di mercato e che quindi testimoniano il valore della società anche dal punto di vista della capacità di generare reddito e di capacità di generare possibilità di rimborso, che credo sia un fatto significativo e che permetteranno di realizzare tutte quelle opere previste dal piano del contratto di programma e che daranno un aspetto nuovo all'allostazione e soprattutto svilupperanno e permetteranno di avere più funzionalità e più servizi, penso per esempio all'incremento degli stalli dei parcheggi penso alla riqualifica del terminal che vedrà inglobato la vecchia rossione Morandi e il vecchio terminal a Rivi quindi la realizzazione dei parcheggi che ho citato, quindi credo opere che permetteranno significativamente di avere una funzionalità operatività migliore e molto più alta da parte dell'arrivo.